Grazie a tutti Gli orari degli autobus buoni Se non addirittura perfetti Reggi Portate rispetto Non so bene che fare Dopo aver trascorso anni a preoccuparti di tutti gli altri L'universo ora dice È tempo di prenderti cura di te Signor Berenman Mi serve il tuo aiuto Tutta la situazione è molto seria Sì Steven è una minaccia per la nostra città Sì, sì Mi serve il tuo aiuto per smascherarlo Oh, tipo da infiltrato Sì Non sono addestrato Posso farti sapere? Berenè ha detto alla piscina Non è un detective C'è Toruncoski Uno, due, tre Via, andiamo Se lei si preoccupa tanto Perché non chiama la polizia? Wayne! Caro, c'è qualcosa che vorresti dire? Oh mio Dio Oh mio Dio, ci sono Devo occuparmi di quel caso No, no Sì Los Angeles è una località desertica E senza acqua La sabbia coprirà tutti noi Come se non fossimo mai esistiti Per farla breve Sono temporaneamente un detective Per conto di un'informatrice segreta All'interno del City Hall Non sappiamo quanto si salga nella piramide Con questa cosa Devi affrontare le tue paure E avere coraggio Energia, 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 energia Forse pulirai piscine Ma sei anche un grande detective So che è pericoloso Ma devo salvare Los Angeles Essa cosa è paruberto Come si si salga nella piramide So che è un problema Come si salga là ещi Che